Buona serata su canale 5 Io però sta entrando Achille Bonito-Liva Buonasera, grazie Professore, stiamo qua, stiamo qua Lei si sente collega di Andrea Di Pre? No Chi sei tu? Chi ti conosce? Chi ti conosce? Chi ti conosce? Chi ti conosce? Chi è il signore? E Achille Bonito-Liva Ma non lo conosco